Ciao a tutti bentornati sul mio canale io sono Roberto Borrelli e oggi voglio mettere insieme vicini i miei programmi che si chiamano Lotto 5 Stelle, il grande hotel Lotto 2019, attenzione 2019 ma molto molto efficace in questo 2021, oltretutto sta a un prezzo bassissimo, conviene prenderlo adesso perché fra pochi giorni ovviamente insomma devo togliere questo prezzo e vediamo di utilizzarlo insieme al mio Lotto Pocket 2 Extra 2021 uscito in questi giorni, anche questo ha un prezzo di lancio che vi conviene averlo, vi conviene sfruttare insomma queste condizioni migliori che ci sono adesso, sono tutti e due programmi che fanno parte della mia galassia di programmi, sono tutti e due programmi per pc con windows, quindi non mi chiedete se funzionano sui telefoni, i telefoni vanno bene per telefonare ma non vanno bene per queste cose, quindi vi faccio vedere intanto Lotto Pocket, avete visto nei giorni scorsi i miei video no? Allora uno dice vabbè ci fai vedere cose già successe in precedenza, ma vi faccio vedere anche che cosa è successa nell'ultima estrazione, quindi vado alla vediata di ricerca, vedete qui sulla destra dove c'ho la manina, accedi alla vediata di ricerca, sono nella vediata di ricerca di Lotto Pocket, mi sposto sulla ruota di Venezia e vado indietro di un'estrazione, scusate, un'estrazione perché altrimenti mi fa vedere il nuovo pronostico, adesso questo è il nuovo pronostico ma non conviene giocarlo perché è appena sortito, conviene invece seguire Bari, attenzione Bari conviene. Allora qui siamo sulla ruota di Venezia, questi sono numeri base per ambata e ambo e poi vanno anche accoppiati con quelli sotto per fare ambi secchi, sono pochi numeri, una sola ruota, i risultati sono tantissimi come hanno visto tutti quelli che hanno preso il programma, quindi vado indietro di una estrazione, quindi al pronostico calcolato sull'estrazione dell'1 aprile 2021, guardate qui, Venezia 3824, quindi c'è l'ambo secco, ambo secco, attenzione che voglio dire insomma non è che si può dire che sia facile questa cosa, no? Questo è un ambo secco fatto in questa, nell'ultima estrazione, quella del 3, del 3 aprile, quindi già diversi avevano preso questo programma e diversi hanno anche preso la vincita. Vi raccomando prendete questo programma che si chiama, ve lo ripeto, Lotto Pocket 2 Extra 2021, uscito proprio adesso, vi conviene averlo perché poi il prezzo sale. Ok, e adesso andiamo indietro ancora di una estrazione, ok andiamo alla 4.219 ma ci spostiamo su Bari, ok quindi qui sotto vedete posso scegliere le ruote, Bari, dopo Venezia viene Bari, ritorna a ruotare, Bari, Cagliari eccetera, mi sposto ancora indietro alla estrazione del, al pronostico scusate, al pronostico del 27 marzo 2021, 27 marzo 2021 e andando qui a destra vedete al primo colpo non c'è, non c'è niente, c'è solo un 9 fra i numeri aggiuntivi, ma andando avanti o al primo colpo, cioè al primo aprile, primo aprile o Lambo 51 e 50, 51 e 50, ok? E quindi questo è stato l'ultimo risultato di Bari, adesso bisogna prendere il nuovo pronostico di Bari, ok? Il nuovo pronostico di Bari calcolato su ultima, nuovo pronostico, quindi chi ha il programma vada su ultima, ottiene il nuovo pronostico e lo può tenere in gioco. Bene, adesso vi faccio vedere un'altra cosa, vi faccio vedere questo, mi sono spostato sia con il programma Lotto 5 Stelle alla estrazione di Firenze, diciamo pronostici di Firenze e Genova all'estrazione 4217 e stessa cosa ho fatto con il programma Lotto Pocket Extra, sono andato ai pronostici basati sulla estrazione 4217 del 25 marzo. Questo è il modo di usare in modo combinato i miei programmi, così facendo potreste evitare di giocare con Lotto 5 Stelle tutti i numeri delle terzine, perché andrebbero giocati i numeri base più tutte le terzine con Lotto 5 Stelle. Quindi questa coppia e quindi queste terzine per ambo eterno. Ma potreste giocare solo la coppia principale 61 e 16, su dove, su quale ruota? Anche solo sulla ruota principale, Firenze, Firenze. E mettere insieme i numeri principali della ruota di Firenze sempre con i pronostici basati, dei pronostici basati sempre sulla 4217, eccoli qua, sono 35 e 37. Ok, mettendo insieme questi quattro numeri, praticamente avrei giocato 16, 17, 35 e 37, ok, che praticamente mi sarebbero sortiti al primo colpo, vedete, ho il 35 sortito dall'Lotto Pocket e il 16 sortito dal Lotto 5 Stelle. Insomma, praticamente potete utilizzare i due numeri principali di un programma e i due numeri principali dell'altro. Questo lo potete fare anche con altri miei programmi, ma adesso vi suggerisco proprio questi, Lotto 5 Stelle e Lotto Pocket Extra, Lotto Pocket 2 Extra, proprio l'ultima mia creazione, l'ultima mia creations, le creations di Roberto Borrelli. Allora, vi piace questa cosa, insomma? Normalmente, ovviamente con Lotto 5 Stelle ci sono più numeri da mettere in gioco in generale, sono una coppia e 8 oppure 9 tersine, ma è anche vero che se esce l'ambo secco si vincono un migliaio di euro. Perché? Perché si vince l'ambo secco e poi tutti gli ambi che sono contenuti nelle tersine aggiuntive. Mentre con Lotto Pocket 2 ci sono meno numeri, si può vincere poco o tanto, tanto se si prendono gli ambi, che sono ambi secchi. Volendo si può mettere anche in gioco solamente il numero principale per ambata, perché il numero principale per ambata c'è quasi sempre, cioè c'è spessissimo, spessissimo. Quindi questo è un programma che assolutamente Lotto Pocket 2 extra, consiglio assolutamente. Avete visto l'ambo a Venezia nell'ultima estrazione e poi subito prima l'ambo a Bari, no? Tenete conto che si lavora solo su una ruota, eh? Qui Lotto 5 Stelle sono due ruote, ma volendo fare gli incroci, quindi prendere i primi due numeri di Lotto 5 Stelle, i primi due numeri di Pocket, ne giocate solo 4, 61 e 16 e in questo caso 35 e 37. Adesso potete prendere il nuovo pronostico basato sull'ultima estrazione, quindi bisogna cliccare su Ultima di Lotto 5 Stelle a Bari, quindi andate prima a Bari, qui fate cambia, 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 finché arrivate a Bari. Bari vedete qui per esempio l'86 l'ha dato al primo colpo, dopo le stazioni del 4217, ma non ci interessa, bisogna andare su Ultima e questo adesso io non lo faccio, lo fa chi ha il programma, va su Ultima e quindi otterrà due numeri base qui sopra, li mette insieme, andando qui a destra su Bari, li mette insieme ai due numeri pronosticati dall'Otto Pocket 2 extra, sempre su Bari e sempre su Ultima, nuovo pronostico. Tutto qui, spero che i miei programmi vi piacciono, anzi ne sono sicuro che vi piacciono perché ho avuto sempre graditissimi riscontri da tutti, un saluto a tutti, spero che abbiate passato delle bellissime, per quanto sia possibile insomma, comunque delle serene ore pasquali con i vostri familiari, andiamo sicuramente verso un miglioramento generale. Ciao a tutti, grazie, per favore metti mi piace e chi vuole questi programmi, chi li vuole tutti e due, comunque mi può scrivere su WhatsApp per avere un ulteriore piccolo sconto. Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie.